La proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti è un fatto estremamente bello, una buona soddisfazione per tutti avere anche questo passaggio che la legge impone, ma adesso un po' di tranquillità per tutti, un po' di riposo per tutti e poi riprenderemo con gli atti conseguenziali alla proclamazione che saranno il consiglio comunale per il giuramento del sindaco e per la convalida di tutti gli eletti. E' un impegno non difficoltoso, non difficile, ma diverso da tutti gli altri, un impegno che vede un consiglio comunale senza l'altra lista, la lista che potevano concorrere insieme con noi e quindi senza un'opposizione in consiglio comunale. E questa è ovviamente una difficoltà che riteniamo debba tenere essere presente sempre e che dovrà in ogni caso convincerci tutti a lavorare per un coinvolgimento totale, soprattutto delle fasce giovanili e soprattutto anche per quello che riguarda la riappacificazione, una parola che abbiamo detto più volte in questi giorni, per trasmettere serenità in tutto il territorio del nostro comune, Motta, Lazzaro e Valanili.